ritratto di sempronia anche nel ritratto di sempronia troviamo le caratteristiche tipiche dello stile di san lusso che ho messo qui in nota in concinnitas cioè la tendenza a creare dei costrutti non ben sviluppati armoniosi ma spesso brevi irregolari che quindi puntano anche su questo effetto di difficoltà irregolarità sintattica per sintetizzare dare più risalto alle singole parole e ai concetti più che alla forma la brevitas quindi la predilezione che deriva anche dal suo modello che cesare portato alle estreme conseguenze però la predilezione dicevamo per costrutti brevi per frasi brevi ma anche per un periodo che sviluppa le subordinate con i participi che sono più sintetici delle delle altre costruzioni con il congiuntivo con eccetera quindi participi oppure anche un periodo poco articolato cioè legato a una serie di frasi giusta apposte senza subordinazione per asindeto e con quindi una serie di una costruzione paratattica non con tante subordinate con periodi ampi anche questa è brevità e in concinnitas cioè non creare dei periodi articolati rotondi diciamo così e ben collegati ma al contrario creare frasi brevi spezzettate dalla punteggiatura paratassi frasi giusta apposte e subordinate implicite fatte col participio variazio ama molto anche creando i suoi le sue sequenze di concetti magari increscendo oppure in antitesi dare costrutti simili ma non esattamente identici con piccole variazioni che anche in questo modo tendongono destra l'attenzione fanno risaltare i termini che all'autore interessano arcaismi il linguaggio è arcaico abbiamo già visto l'uso del accusativo is anziché es per il plurale della terza definizione oppure la u al posto della i l'ubido invece di libido infine appunto la sua predilezione per narrazioni drammatiche dove ci sono forti contrasti e quindi costruzioni antitetiche antitesi forti contrasti o chiasmi o parallelismi ma andiamo a vedere il testo sempronia è un altro frutto di questa società corrotta della fine della repubblica una donna ricca una donna che avrebbe un nome onorato avrebbe una famiglia felice figli e marito illustri ma che è corrotta dai tempi e quindi è una donna dalle insaziabili passioni ancora una volta invece di parlare degli esseri umani come un po nel ritratto di catilina sallustio pone l'accento sulle passioni che agitano corrodono mangiano degli esseri umani e li portano alla alla congiura o ad azioni criminali ad facinora diremmo infatti anche in sempronia agisce la lubido vedete di nuovo la ambizio e l'avarizio ma andiamo a vedere donna anch'essa notevole quindi dai grandi pregi e dalle altrettanto grandi diciamo degenerazioni altrettanto grandi difetti i neis se di neis erat sempronia que multa sepe virili saudace facinora commiserat ma tra di loro vi era sempronia la quale commiserat aveva già commesso multa sepe facinora spesso multa multi delitti virili saudace di audacia virile allora è ovvio neanche sto adesso a dirvi a ripetervi che i romani erano maschilisti quindi dire che una donna fa azioni pur criminose facinus facinoris neutro facinora neutro plurale azioni criminose ma di una audacia maschile virile è farle un complimento è una donna che ha gli attributi per non dirla in maniera più volgare avete capito termine maschilista per dire ha un carattere forte coraggioso determinato quindi aveva fatto cose di audacia virile vedete l'ambiguità non si capisce bene se san luscio la ammiri o la condanni perché ha detto che ha fatto delitti facinora ma nello stesso tempo ha fatto un complimento gli ha detto che questi delitti denotano in lei un'audacia virile ecco tutto il ritratto di sempronia è un capolavoro di ambiguità l'abbiamo visto già nel ritratto di patilina dove questa mix di vizi terribili si unisce a delle doti notevolissime che l'autore non può che ammirare di appunto dicevamo audacia coraggio determinazione intelligenza e così via ecco mulier genere atque forma preteria viro e liberis satis fortunata fuit vedete un tipico esempio della sua brevitas e inconcimitas qui abbiamo un cumulo di ablativi cioè genere forma viro e liberis tutti i complementi di relazione o limitazione cioè in relazione questa donna soggetto ecco mulier verbo satis fortunata fu molto fortunata qui la nostra nota ci dice il nostro libro fu abbastanza fortunata ma potremmo anche mettere fu molto più molto fortunata ecco per genere per famiglia e per bellezza quindi una donna nobile e bella e inoltre preteria per il marito e per i figli vedete gli altri due ablativi di limitazione relazione vedete che questo cumulo è praticamente questo cumulo di ablativi è praticamente in asindeto abbiamo soltanto una virgola ma la virgola ce l'ha aggiunta l'editore moderno la punteggiatura non c'è nei testi allora tutti questi termini ancora una volta che abbiamo vediamo sottolineati in giallo e in rosso sono tutti retti da docta quindi il verbo reggente dovrebbe essere docta erat verbo sottinteso essere era esperta dunque e vediamo anche la variazio perché nel giallo diciamo nel primo termine abbiamo due complementi ancora una volta di relazione e limitazione in ablativo era esperta nella letteratura greca e latina mentre nella seconda parte del periodo era esperta regge due infiniti quindi era esperta nel suonare la cetra e nel ballare quindi questi due infiniti sono una variazio una variazione del complemento di limitazione ma sono infiniti con valore sostantivato era adotta del nel suonare la cetra esperta le suonare la cetra e nel ballare e notate questa questa frase velenosa elegantius è un comparativo dell'avverbio elegante più elegantemente di quanto è necessario a una donna onesta cioè lei sapeva ballare in una maniera più morbida più elegante più sensuale anche di quanto è necessario una donna onesta le donne oneste le mogli le madri di famiglia le matrone del mosma iorum non ballavano non anch'eggiavano non muovevano il corpo per attirare l'attenzione per sedurre quindi vedete che mentre fa il complimento era esperta nel suonare la cetra e nel ballare poi fa capire che queste due caratteristiche il suonare la cetra e il ballare non si addicono a una donna proba cioè onesta qui è il dativo è probé necessaria una donna è necessaria una donna onesta cioè suonare la cetra e ballare sono due arti di intrattenimento tipici due tipiche scusate arti delle etere cioè delle cortigiane delle prostitute d'alto bordo quelle raffinate e molte altre cose come l'origian questo questo multalia è un ulteriore variazio rispetto al complemento di relazione limitazione che ripeto abbiamo visto nel primo elemento retto da docta erat era esperta è in ablatino era esperta in queste cose poi in accusativo scusate in nell'infinito sostantivato il terzo complemento di limitazione relazione è in accusativo sfruttando un grecismo cioè l'accusativo di relazione non è tipico del latino il complemento di relazione il latino si fa con l'ablativo ma in greco si fa con l'accusativo tant'è che viene chiamato accusativo alla greca accusativo di relazione alla greca quindi e in mo era esperta in molte altre cose che sono strumenti di seduzione vedete che dunque questa donna non è una matrona roba ma lei sempre fuit furono più care tutte queste cose rispetto al decoro e alla pudicizia ancora una volta lei amava di più questi giochi della seduzione più che il decoro e la pudicizia partiamo dalla principale non potrei non potevi non avresti potuto facilmente capire discernere qui il congiuntivo nella principale quindi congiuntivo indipendente ha un valore di possibilità non avresti potuto ecco dobbiamo usare una perifrasi del verbo potere ricordo che il congiuntivo nella principale lo troviamo o nelle preghiere nelle invocazioni fiat voluntas tua si dice il padre nostro cioè il congiuntivo di desiderativo ottativo oppure può avere questo valore di possibilità con una perifrasi del verbo potere non potevi facilmente dunque capire e qui ci voleva l'introduzione della interrogativa indiretta cioè un ne che come vedete manca è sottinteso se dunque si preoccupasse di meno dei soldi o della reputazione lubido arcaismo per libido vedete un tema che è anche comune a catiline agli altri congiurati così accesa di libidine qui si tratta di una libido non di capiundere pubblica e non di prendere lo stato ma della libidine sessuale così accesa di desiderio sessuale che c'è sic quindi ut a valore di consecutiva che molto spesso comparativo assoluto dell'avverbio sepe molto spesso cercava gli uomini anzi no non comparativo assoluto scusate comparativo con il secondo termine paragone che più spesso cercava gli uomini quanto fosse cercata scusate quam peteretur è una comparativa retta da quam e col congiuntivo che segue la consecut ut temporum ut peteret invece abbiamo detto consecutiva perché c'è davanti sic ma essa spesso già precedentemente aveva tradito la fiducia aveva abiraberat aveva tradito la fiducia era stata conscia complice di delitti e si era inabissata abirat preceps si era gettata precipitosamente che gli era caduta così in basso preceps è un aggettivo è quindi un predicativo del soggetto si era gettata precipito precipite era precipitata nella lussuria e nella povertà verum ingenium eius aud absurdum in verità però la sua intelligenza non era non era poca cosa non era cosa da poco cioè qui torniamo alla fase dell'apprezzamento delle sue doti di intelletto non è il suo ingegno non era assurdo letteralmente posse ecco qui abbiamo un infinito narrativo cioè non possiamo capire se intenderle come oggettive e quindi le intendiamo come imperfetti indicativi è un uso che anche in cesare infinito al posto di un imperfetto indicativo sapeva comporre versi sapeva fare battute e sapeva usare di un eloquenza a volte in vesta a volte molli a volte seducente a volte sfrontata e infine era in lei molto spirito e molta e molta cultura